Benvenuti in questo nuovo tutorial fiscale. Oggi parliamo del primo decreto coronavirus, che contiene alcune misure per le imprese residenti nelle cosiddette zone rosse, ma anche provvedimenti per alcune aziende nel territorio italiano. In particolare, il decreto legge numero 9 2020 del 2 marzo contiene, tra le altre, alcune misure che sospendono i versamenti fiscali delle aziende che risiedono sia nelle zone rosse che nel settore turistico alberghiero. È stabilita la proroga dei termini in favore esclusivo delle imprese nelle zone rosse, qui vedete i comuni interessati, ed in particolare è stata disposta la sospensione dei versamenti cadenti tra il 23 febbraio e il 30 aprile per cartelle di pagamento, per atti di accertamento, sia fiscali per entrate tributarie che patrimoniali, nonché per rottamazione ter e saldo estralcio. Tali versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Per quanto riguarda invece il settore turistico, è disposto che tutte le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, con domicilio fiscale nel territorio dello Stato, possano sospendere i versamenti dal 2 marzo fino al 30 aprile 2020, relativi alle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d'imposta, nonché i versamenti contributivi e previdenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria. I predetti versamenti che riguarderanno principalmente le ritenute relative ai lavoratori dipendenti potranno essere effettuati senza sanzioni e interessi entro il 31 maggio 2020. Ovviamente le ritenute e i contributi già versati non sono rimborsabili. Grazie per l'attenzione.